Raga, stamattina sono rincoglionito, però carico è, sono carico, sono carico perché sono convinto che oggi sarà una giornata favorevole al nostro Milan anche come classifica perché noi giochiamo contro l'Udinese in casa, l'Inter però viene qua a casa mia, a Bergamo e la Juve con la Fiorentina, potrebbero verificarsi cose importanti oggi, speriamo, speriamo, ottimismo raga, ottimismo, il titolo del video di oggi è, dopo ovviamente che ho visto la probabile formazione, è colpo di genio di Pioli o sarà una follia? questo 4-4-2, che comunque raga per me è un 4-4-2 mascherato e adesso andiamo a parlarne ma prima iscrizione al canale, importantissimo, e lasciate il pollice in su perché chi non mette il pollice in su, viveron di Noemi. detto questo, allora, per me oggi, raga, l'Inter non vince, però ogni volta che gioca l'Inter io penso questo. allora, il Milan oggi giocherà con un 4-4-2, ripeto, per me è mascherato e quando l'ho visto ho detto, da un lato mi son detto, ci sta, ci sta perché sappiamo tutti come gioca l'Udinese, ci sono giocatori fisici che giocheranno tutti dietro, sono l'anticalcio, verranno a Milano per mettere il pullman e quindi dobbiamo attaccarli, attaccarli e più uomini d'aria abbiamo, è meglio è. e quindi benvengano le due punte, benvenga una torre come Giroud e un giocatore rapace dentro l'area di rigore come Jovic, anche se l'ultimo Jovic di rapace non ha un cazzo, anzi, anzi, ti devi svegliare, ti devi svegliare, tu mi hai detto che sei milanista da quando sei nato, ecco, quindi devi spaccare l'area di rigore, oggi voglio vedere il tuo primo gol in maglia rosso-nera, però dall'altro lato mi son detto anche, allora, a centrocampo, sulla sinistra del 4 di centrocampo, Leao, non lo vedo come un centrocampista sinistro che fa su e giù e secondo me sarà l'ennesima volta che il mister mi mette in difficoltà a Teo Hernandez perché dovrà fare un lavoro più di copertura che di spinta se giochiamo davvero col 4-4-2 il centrocampista sinistra e Leao. Ecco che il mio pensiero è, non è che il Milan invece non è proprio un 4-4-2 ma sarà un 4-3-3 o un 4-4-2 mascherato, però più un 4-3-3 con Jovic più a destra e Leao più a sinistra, lo vedremo oggi, certo che se dovessimo vincere come io penso, come io credo, perché raga, l'Udinese è una squadra per noi rognosa, ma se vogliamo ripartire, se abbiamo l'ambizione davvero di avere, di vincere una seconda stella, queste cazzo di partite, soprattutto in casa, bisogna fare assolutamente i tre punti, anche perché la vedo abbastanza in crisi questa Udinese, ha cambiato l'allenatore, ha preso, va bene, ha preso Cioffi, però fan cagare, fan cagare, il problema è, è proprio quella squadra che fa il 3-5-2 che si scherano tutti dietro e che andranno di ripartenza, ecco le squadre che noi soffriamo, quindi io dico, va bene, dobbiamo attaccarli, dobbiamo rompergli il culo, però attenzione, attenzione in fase difensiva, attenzione alle loro ripartenze, stiamo compatti, quello che è mancato fino a oggi, la compattezza, l'unione di intenti, si attacca in 11 ma si difende in 11, perché ad attaccare in 11 lo stiamo facendo, il problema è il difendere in 11, lasciamo troppi buchi e l'Udinese, attenzione, perché ci può far male in contropiede, però io credo che il Milan oggi darà una prova di forza, farà capire comunque i suoi tifosi che c'è, che c'è come squadra e da lì parte la cena di venerdì, dopo tutte le polemiche fatte per, di giovedì, scusate, dopo tutte le polemiche fatte per quanto riguarda il rapporto giocatore-allenatore, vedremo, vedremo se la scelta di mister Pioli è quella giusta o se invece ha fatto una cazzata, allora quello che io dico, raga, e leggo i vostri commenti, quindi va bene, a nessuno di noi piace mister Stefano Pioli, penso comunque che è a fine ciclo del Milan, però davvero io gli auguro di vincere tutte, tutte da qui alla fine, di farmi ricredere, di farmi dire ha cambiato modo, ci ha visto bene e abbiamo festeggiato insieme lo scudetto, abbiamo fatto una grande Champions, cioè alla fine si critica Pioli in maniera costruttiva, lo si insulta, ma in maniera costruttiva poi tutti noi io penso che speriamo in cuor nostro che Pioli faccia grandi cose e ci faccia vincere, ci faccia ricredere, perché se Pioli fa bene è il Milan che fa bene, che è l'unica cosa che conta. Ieri la Curva ha vinto, la sua battaglia momentanea ovviamente, perché è giusto, non si può andare in trasferta e pagare 65 euro un biglietto in curva, cioè non è una cosa corretta, si parla tanto del calcio del popolo e poi di popolare non c'è più un cazzo. Il Lecce probabilmente ha visto e si è scusato, dopo loro inventano le loro cazzate, però ha riportato il biglietto a 35 euro, più o meno la metà. Sono contento che abbiano vinto questa battaglia perché non trovo corretto, è da un po' che lo dico, non trovo corretto i prezzi dei biglietti che ci sono oggi, ma sia in casa, soprattutto nei big match, nei big match del Milan e come se dicono tu operaio startene pure a casa. Si è visto l'anno scorso nelle semifinali di Champions dove i biglietti costavano più di 100 euro, ma si vede anche quest'anno, quindi la battaglia che sta facendo la Curva è una battaglia che io sul mio canale porto da un bel po' e che dico non esiste, non esiste far pagare i biglietti in questa maniera. Capitolo difensori, allora il Milan a gennaio ha quattro nomi, Ester del Montpellier, giocatore che non sta trovando spazio manco al Montpellier, sta giocando poco e quindi lasciamo perdere. Poi probabilmente se te lo danno a due ceci, sicuro è quello che piglia il Milan, Kelly che gioca in Premier, ne parlano bene, però come vi ho già detto io vorrei un nome affermato e forte. Kulierakis dal Pauk Salonico, vent'anni, un muro in difesa in Grecia, un muro davvero davvero molto forte, però il Pauk ti chiede tantissimi soldi. E poi c'è il nome che piace più a me. Keyword. Grande esperienza in Italia, molto giovane ancora, comunque l'ho visto fare grandi cose allo Spezia, l'avrà evoluto già il Milan ai tempi, però poi la sua decisione è stato andare all'Arsenal. Se apre al prestito l'Arsenal, magari con un diritto, per me l'acquisto migliore che possiamo fare, perché in Italia ha fatto davvero bene. All'Arsenal, sapete anche voi, ci sono tantissimi campioni e non è facile per un giovane esplodere, però io credo che al Milan un giocatore come questo farebbe davvero il caso nostro. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, ci vediamo stasera.